Salve a tutti gli utenti di EveryGuy, io sono JRevenge e oggi sono qua per presentarvi la demo di FIFA 15 Partiamo subito tutto in live, quindi vi mostrerò le nuove novità di questo FIFA giocando in diretta Quindi posso farvi vedere tutto all'istante, partiamo subito, scegliamo come squadra di Liverpool perché devo farvi vedere una cosa E giochiamo contro il Borussia Dortmund, Liverpool casacca rossa, Dortmund maglietta gialla Allora partiamo subito con gestione squadra, come potete vedere in alto a sinistra vediamo le facce dei giocatori Con fisico, difesa, dribbling, passaggi, tiri, velocità, sono le loro statistiche Un po' come si poteva vedere su un certo gioco chiamato Pest, il concorrente di FIFA Possiamo trovare i moduli, molti moduli aggiunti Quindi ragazzi, oggi questo non è il video dove andremo a parlare dei moduli Però ci sarà un video dove parleremo anche dei moduli in quanto sono molto cambiati e andremo a parlarne in seguito Allora ruoli, possiamo scegliere sempre i ruoli, battitori eccetera eccetera Istruzioni sempre le stesse, però questa volta possiamo mettere il supporto in difesa Ampiezza bilanciata, attacco equilibrato Quindi avremo più possibilità di modificare la nostra squadra sotto il profilo tattico Tattiche, vediamo contropiede, pressing alto, palla lunga E poi stesso palla, palla lunga Per molti conosceranno il famoso glitch del calcio d'inizio Che è veramente molto brutto da vedere Però è ancora presente anche in FIFA 15 Quindi non possiamo farci nulla che non sperare in qualche paccio Comunque sia imparare a difendere Allora Non c'è ancora Balotelli, perché? Perché la demo, ragazzi, è uscita Non aggiornata in quanto è la stessa demo che c'è stata al Gamescom ad agosto Quindi non è presente Balotelli Perché Balotelli è stato trasferito a fine calciomercato Quindi verso il 28-29, ora non ricordo bene E quindi non c'è Vediamo campo innevato Vediamo Borussia Dortmund che parte da destra e da sinistra Voi starete ascoltando l'inno del Liverpool In quanto questa è una novità di FIFA Tanto attenzione che... Uh! Partiamo già 1-0 Questa è una brutta cosa Allora Stavo dicendo Sentite l'inno del Liverpool You Will Never Walk Alone Che è l'inno ufficiale del Liverpool In quanto siamo nel Lanfield Road Quindi stadio del Liverpool E i nostri tifosi vedete come alzano la bandiera Del Liverpool E fanno vedere Questa diciamo originalità In quanto non ho mai visto un gioco dove veramente entri in campo e ti cantano l'inno Quindi questa è una delle novità di FIFA 15 O comunque sia Abbiamo potuto vedere Potevamo aggiungerla volendo Noi su FIFA 14 Però qua è stata veramente implementata E devo essere sincero è un'ottima cosa Tanto vediamo Mkhitaryan che va sulla fascia Ma nulla da fare Vediamo subito Pisceschi Io non ho mai capito come si chiama questo giocatore Questo è un live ragazzi Perché voglio proprio farvi vedere nel dettaglio le cose Senza dover fare un video dettagliato Perché voglio portarvi con questi video Dei video molto divertenti Ma allo stesso tempo molto interessanti Perché argomenteremo delle cose Quindi quello che succede su FIFA Ma allo stesso tempo voglio farlo un po' divertente Perché guardare un video dove ci sono solo dettagli Secondo me stufa dopo un po' Cerchiamo di fare qualcosa di divertente Utile Intanto vediamo Allen Che mette in mezzo per Sterling Sterling avanza Ok ragazzi Come vedete Questo è un tuffo Della versione Next Genre dei portieri Perché come ben sapete I portieri sono stati aggiornati Hanno avuto anche loro un aggiornamento In quanto adesso faranno parate molto più professionali Molto più interessanti E molto più belle L'unico problema è che queste parate qua ogni tanto peccano Quindi in questo caso qua il portiere potrà commettere anche degli errori catastrofici Ovvero magari un lancio A causa della neve Scivola la palla E la palla Cioè scivola la palla dalle mani del portiere E la palla entra in porta Quindi possono commettere degli errori questi nuovi portieri Per rendere il gioco più realistico E secondo me anche questa è un'ottima novità In quanto rendere realistico Perché io mi ricordo che il portiere di Fino 14 È tutto automatico Nel senso che voi non potete pilotarlo Diciamo che se Potete scegliere solo se farlo uscire e basta Quindi ogni tiro che faceva Se segnavate era perché il portiere del computer Diciamo era stato controllato male Tanto vediamo Gerard, Steven Gerard Capitano del Liverpool Quindi questi portieri qua hanno avuto questo aggiornamento qua Che hanno la possibilità di tuffarsi e parare in tutti i modi O magari di fare delle pecche Che comunque sia possono capitare a tutti i portieri E che sono capitate a praticamente Attenzione intanto Starridge E sono capitate anche ai migliori portieri del mondo Un'altra novità è il morale dei giocatori Perché come ben sapete Da quest'anno sono stati introdotti i morali dei giocatori Quindi se un giocatore come in questo caso Facciamo Allen Ha sbagliato un passaggio Allen avrà il morale basso In quanto ha sbagliato il passaggio e si demoralizzerà Quindi commetterà più errori Quindi è una sorta di intesa in game Nel senso che Intanto vediamo Starridge Vediamo Uh Paratona del portiere Widenfeller In questo caso qua il morale è una sorta di intesa live In quanto in un determinato momento Noi possiamo far sì che l'intesa cambi E indipendentemente Cioè indipendentemente al Diciamo all'andamento del giocatore Quindi se il giocatore come ho detto prima Commetterà degli errori Influirà sul gioco in game Quindi è consigliato che se un giocatore fa troppi errori Togli il terreno dalla partita E mettete un altro Nuova novità sono le esultanze Ci sono molte nuove esultanze Molto divertenti Poi se riuscirò nei prossimi video Farò proprio un video Dove vi porterò le migliori esultanze Di questo FIFA 15 Perché è molto divertente come cosa E diciamo che Ancora questo portiere Vedete ragazzi In questo caso qui il portiere è molto più mobile Cioè quindi riesce a farsi tuffi Riesce a fare le parate incredibili Di braccio In tutti i modi che voi potete immaginare E Veramente Mi è piaciuta questa cosa Di avere un portiere aggiornato Tanto colpo di testa Nulla Stiamo perdendo 1-0 Contro il Borussia Dortmund È finito il primo tempo ragazzi Allora Dopo Direi anche degli infortuni Gli infortuni Tanto stavate vedendo Poi ve li faccio vedere alla fine del video Gli highlights Che sono una sorta di Riassunto Del primo tempo Dove in pratica si vedono Tutte le azioni che avete fatto voi E si vedono veramente molto bene E Posso dire che questa è una Delle innovazioni più belle Che ho visto Ad oggi Su FIFA 15 Poi giustamente Non è il gioco completo Quindi il tutto lo vedremo Con la versione completa Che uscirà Tra una quindicina di giorni Però Posso dire che È molto Bello Le mie impressioni su questo gioco Sono molto Positive Su FIFA 14 Non erano molto positive Infatti è stato un gioco che Non è stato molto bello Sotto il lato del Diciamo Del gioco per sé Perché Se non sbaglio Adesso non vorrei dire una cavolata Su FIFA 12 Le mie impressioni erano Molto più buone Perché infatti Sono rivelato uno dei migliori giochi Della saga di FIFA Adesso Vi chiedo anche a voi Qual è stato secondo voi Il miglior FIFA Da FIFA 08 In poi Quindi dovete dire Qual è la versione più bella Giustamente Non potete paragonare La grafica di FIFA 08 Con quella di FIFA 15 Però Comunque se ho fatto i due conti E ditemi Qual è la versione di FIFA Che vi è piaciuta di più Stavano dicendo Gli infortuni I giocatori Adesso si fossero infortuni Nel modo strano Come strano Allora Se io prendo un giocatore In questo caso del Liverpool E vado a colpire di testa Posso Tra virgolette Aggrapparmi Alla schiena Del giocatore del Borussia Tanto vediamo Azzer Sterling Il portiere in questo caso qua Sto facendo delle ottene parate Quindi posso aggrapparmi Alla schiena Del giocatore del Dortmund E Se farò un fallo Mi aggrapperò E farò male al giocatore Anche se non è un fallo Da fischiare Comunque sia Il giocatore si può infortunare Quindi Può subire un infortunio Anche causato Da salti O Qualsiasi altra cosa Che possa Danneggiare il suo fisico Quindi adesso Non basterà Come negli altri FIFA Diciamo O avere lo stiramento Causato dal gioco Dopo che si corre tanto O I soliti Intanto vedete qua Popperata del portiere Come vi dicevo Il portiere ogni tanto Commette degli errori E Questa cosa qua Degli infortuni Vi stavo dicendo Che Non dipenderà Solo dalla stanchezza Del giocatore O da falli Commesse in scivolata Ma tutto in generale Intanto vediamo Un golasso Di Aguero Screta Adesso Non vedo il nome Proprio da vicino Dovrebbe Lambert Quindi attaccante Provvisorio Al posto di Balotelli Vediamo subito Al sessantasettesimo 1 a 1 E Sì Alla fine Questo FIFA qua Mi è piaciuto Cioè mi è piaciuto abbastanza Questa prima Diciamo Prova Che poi la vera prova La faremo Sul gioco nuovo Nel frattempo vediamo Kel Che Cerca di impostare il gioco Per Blaschikovsky Blaschikovsky Cerca di farla passare Per Royce Ma non riesce Perché lo sto guidendo bene Come vedete C'è la neve Ma se giocate Nel campo normale Quindi quello Verde Come tutti noi conosciamo Anche in questo caso Qua è verde però Rovinato Uh Poveratona È rovinato dal Dalla neve Bene Da questo gioco qua Si deteriorerà Il campo Quindi Che cosa voglio dire Se voi state giocando Una partita A un certo punto Il campo Diventerà Uh Starridge Il campo Diventerà Danneggiato Quindi riuscirete a fare Meno passaggi Perfetti Anche su questa cosa qua Di passaggi Ho notato che La difesa è molto più Complicata Del FIFA Scorso Come vi ricordate Da FIFA 13 A FIFA 14 C'è stato il cambio Di difesa Quindi si è passato Dalla difesa Tradizionale A quella tattica Che quindi Ha combinato Dei vari Dei grossi problemi A noi Player Perché ci hanno Veramente Cambiato Il modo Di difendere Su FIFA Infatti Mi ricordo che Per quell'anno Lì hanno lasciato La funzione Ancora Difesa Tattica C'è tradizionale Perché molta gente Ancora non aveva capito Come si difendesse Con quella nuova Difesa Quindi qua Ho notato che C'è È molto più difficile Difendere È molto più difficile Fare i lanci Perché mi ricordo Che su FIFA 14 Adesso è come se Stessi parlando Di un anno fa Ma in realtà Sto parlando proprio di ieri FIFA 14 Ogni lancio A patto che voi Utilizzate I tasti automatici O semi automatici Come tutti Se non li avete mai cambiati Ce li avete Automatico Come sapete Ogni lancio Il pallone Va sui piedi Del vostro giocatore Perché questo è Proprio il lancio Automatico Se invece Giocate sulla demo Qua anche se avete Automatico I passaggi Li fanno Molto male Ovvero Non malissimo Però dovete scegliere Voi come caricare Quindi non vi basterà Solo premere LB E Y Nel caso che giocate Su Xbox O L1 Triangolo Su Playstation E Quindi non vi basterà Solo quello Per Diciamo Fare il passaggio Lungo Perfetto Ai piedi Quindi anche questa cosa qua La reputo Una novità Di questo FIFA 15 Poi andremo con Un altro youtuber Che comunque se Conoscete bene Il Green Andremo a trattare Nei minimi dettagli Queste novità Di FIFA 15 Tanto Sterling Come al solito Sterling Commette sempre Degli errori E come nella realtà Ho notato che Ad esempio Immobile Immobile si muove Come nella realtà C'è quindi Tutto robusto Non fa dei movimenti Corre storto Nel senso che Se vedete le partite Di Immobile Capite subito Che cosa intendo Vedete ragazzi Si è infortunato Il mio giocatore Causalmente Perché ha colpito E' stato colpito Quindi devo fare Proprio un cambio Al novantesimo Mettiamo Lucas Leiva Tanto ormai La partita è finita Novantesimo Partita ormai Quasi conclusa Fair play Quindi pallone Che viene ridato A noi Bene La partita E' finita Anche il video E' finito ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Vi invito sempre A lasciare un mi piace A iscrivervi al canale Di Every Eye Se volete seguirmi Anche sul mio canale Vi do Il benvenuto E alla prossima Con un nuovo video Su FIFA Queen